gentili telespettatori buona giornata angelo bonelli e i calcoli che non tornano per andare contro il governo il governo dice che non c'è l'introduzione di nessuna nuova tassa nella prossima manovra di bilancio il testo non esiste perché il testo della manovra di bilancio deve essere ancora fatta ma la sinistra protesta su una manovra che ancora non è stata scritta ci sono delle idee delle delle proposte ma la manovra non c'è quindi non c'è scritto da nessuna parte che ci sono nuove tasse c'è un documento che ha fatto giorgetti dove propone di allineare le tasse sul diesel a quelle della benzina però anche quella non è una tassa che c'è o è stata fatta ieri o l'altro ieri è una proposta che deve andare al vaglio del consiglio dei ministri del governo di meloni e dei capi politici del centro-destra ma angelo bonelli il leader dei verdi ieri ha già fatto i calcoli sulla platea di destinatari della tassa che poi non ci sarà si presume giorgetti parla di controlli sugli aggiornamenti già previsti dalle norme in vigore bonelli si scatena e dice il governo si accinge a tassare la casa di 15 milioni di persone colpevoli di aver rispettato le leggi ed essere virtuosi nel tutelare l'ambiente come dal 1998 anno della sua istituzione da parte del primo governo prodi ad oggi almeno 19 milioni di contribuenti hanno fatto ricorso ai bonus edilizi incurante delle dichiarazioni pubbliche del governo bonelli snocciola i dati di uno studio del cresme su dati del ministero dell'economia e delle finanze per fare una sorta di allarmismo e dice è certo che almeno 15 milioni di persone saranno interessate dalla tassa sulla casa introdotta dal governo meloni e alcuni contribuenti potrebbero aver presentato più di una richiesta nel tempo i numeri della tassa che non ci sarà è ma che bonelli ha già prelevato dalle tasche degli italiani dice il totale delle domande presentate tra il 1998 e il 2012 è pari a 6 milioni 222 mila 729 per gli anni dal 2013 al 2022 la fonte è il ministero dell'economia e finanza le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 indicano 10 milioni 758 mila 288 richieste di detrazione considerando però che i bonus edilizi sono stati spalmati su 10 anni si arriva così a quasi 17 milioni di domande poi per il periodo 2023 2024 include anche il super bonus si possono aggiungere altre 2 milioni di domande arrivando così a un totale di 19 milioni di contribuenti alcuni dei quali potrebbero aver presentato più di una richiesta così la sinistra già parla di questa presunta imposta con tanto di destinatari fantasma ma i fatti quali sono giorgetti dice dobbiamo far emergere tutte le case fantasma che ci sono in italia e ce ne sono tante quindi emergere le case fantasma che è un obbligo delle istituzioni non ci possono essere case fantasma quindi non si parla di tassare gli italiani 19 milioni ma si tratta di scovare le case fantasma abusive e poi dice giorgetti tutti quelli che in questi anni hanno usufruito dei bonus edilizi e hanno apportato delle modifiche catastali devono comunicare queste modifiche catastali per attualizzare le rendite e le tasse perché fa intendere giorgetti in questi ultimi anni ci sono stati molti bonus edilizi molti hanno fatto dei lavori nelle case però qualcuno potrebbe essersi dimenticato di aggiornare i dati catastali sapete che magari uno si dimentica perché aggiornando i dati catastali ti aumentano le tasse sulla casa allora qualcuno magari si è dimenticato di aggiornare questi dati giorgetti dice solamente che bisogna verificare tutti quelli che hanno fatto e utilizzato dei bonus edilizi verificare che si siano ricordati di aggiornare i dati ovviamente aggiornando i dati catastali poi aumentano le tasse sulla casa ma questo è normale è la legge se tu modifichi il tuo appartamento la tua casa la tua villetta aggiornando i dati e se viene da pagare di più devi pagare di più ma non è un aumento delle tasse se tu modifichi la tua villa ti aumentano le tasse ma non è che la meloni ti aumenta le tasse sei tu che hai modificato casa tua e hai fatto in modo di arrivare a un punto dove devi pagare più tasse solo che la sinistra fa finta di aver capito un'altra cosa il governo aumenta le tasse le tasse a 12 15 bonelli è arrivato addirittura a 19 milioni di contribuenti quindi praticamente un italiano su tre verrebbe colpito secondo bonelli da un aumento delle tasse sulla casa così così aumento delle tasse sulla casa in realtà non c'è nessun aumento delle tasse sulla casa in nessun modo giorgetti dice solamente hai fatto delle migliorie a casa tua comunica le comunica queste migliorie aggiorna i dati e vedi se devi pagare più tasse non è un aumento delle tasse è una cosa che dovrebbe essere automatica dove il contribuente dovrebbe di sua iniziativa andare a modificare i dati catastali se ha fatto delle migliorie e voi sapete che spesso in molti si dimenticano voi dite ma come è possibile e quando c'è da pagare di più a volte ti dimentichi capita a volte ci si dimentica perché giorgetti dice visto che le casse dello stato già sono semi vuote facciamo sì che chi debba pagare quello che deve lo faccia senza dimenticarsi di aggiornare i dati dopo aver usufruito dei bonus edilizi è chiaro bonelli 19 milioni di italiani pagheranno la stangata sulla casa no no angelo bonelli non è propriamente così anzi non è così però loro cavalcano sciacallando allegramente cavalcando delle notizie inesistenti che si sono creati loro ad arte tremendo discretamente tremendo grazie a tutti e arrivederci a presto